Inizia oggi questa avventura ufficialmente della giunta di Primio Bis, quali sensazioni? Ottime, ottime sensazioni, una giunta rinnovata, una giunta di persone professionalmente preparate, quindi questo si aspetta da noi dal sindaco che lavoriamo bene per il bene della nostra città. Lei è una delega delicata, importante, quella della politica della casa, c'è tanto da fare sotto questo punto di vista? Quello che ci sarà da fare si farà, tutto nell'ambito della legalità, io sono un avvocato, quindi per me la legge è importante, sono cresciuta con i codici, quindi non credo che non si possa fare nell'ambito di un progetto ispirato alla legalità massima e questo sarà. Lei per così dire è un assessore esterno o tecnico che dir si voglia, questo cosa vuol dire? Che sono stata scelta per le mie competenze perché svolgo una professione da avvocato di cui forse c'era bisogno anche nella giunta. Lei è stata chiamata di recente dal sindaco di Primio, appena ha ricevuto questa telefonata ci ha pensato su oppure la risposta è stata subito positiva? Allora come già ha detto al sindaco in un primo momento io avevo detto no per i miei impegni professionali. Il sindaco mi ha poi chiamato, ho capito che ci teneva particolarmente alla mia presenza, Umberto è un amico di vecchia data, io sono stata nella prima giunta a Cocullo quando lui era vice sindaco e a questo punto ho deciso di dirgli di sì.